Una nuova attenzione ai temi dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile si sta diffondendo nelle scuole italiane. Si tratterebbe, sostengono i ricercatori del Censis, che proprio nei giorni scorsi ha diffuso il proprio 53esimo rapporto, di una sorta di effetto Greta. Il 74% dei 1012 dirigenti scolastici intervistati dal Censis ritiene infatti che nel corso dell'anno l'etica ambientalista degli studenti sia cresciuta grazie anche alle parole e alle azioni della giovane Greta. Il 70% dei presidi ritiene che i propri alunni siano molto sensibili e partecipi delle esperienze proposte dalla scuola in ambito ambientale e, sempre secondo i dirigenti scolastici intervistati, sarebbero ancora più numerosi gli studenti che si fanno portatori di nuove iniziative all'interno delle scuole stesse. Ci sono poi anche dati oggettivi, per esempio in più dell'85% delle istituzioni scolastiche sono state introdotte misure per ottimizzare l'uso dei materiali di consumo o per ridurre i rifiuti o quantomeno per riciclarli. In molti casi i distributori automatici sono stati eliminati e sostituiti con snack e merende preparate a scuola con cibi sani e prodotti locali. Stanno aumentando anche i progetti attivati dalle scuole, spesso in collaborazione con i comuni, per l'abolizione dell'uso di bottigliette di plastica sostituite con borracce e con distributori per l'acqua. In due scuole del primo ciclo su tre sono attivi orti scolastici che stanno iniziando a diffondersi anche nelle scuole secondarie di secondo grado. In un istituto superiore su quattro orti e giardini curati dagli stessi studenti sono ormai una realtà. Insomma se l'effetto Greta anziché una moda passeggera dovesse consolidarsi nei prossimi anni le scuole italiane potrebbero davvero migliorare un poco e contribuire a diffondere quella cultura ambientale di cui c'è sempre più bisogno. Sul tema torneremo ancora, anzi vi chiediamo di inviarci le vostre esperienze e le vostre iniziative di cui sicuramente potremo parlare